Buongiorno ragazzi, in questo video andiamo ad analizzare la fase di carica di un circuito RC. Andiamo quindi a considerare un circuito caratterizzato da una resistenza R e un condensatore di capacità C. Se andiamo a collegare il circuito a un generatore di tensione che fornisce una forza elettromotrice E, osserviamo che le piastre del condensatore iniziano a caricarsi, fino a raggiungere un valore Q0 uguale E per C. Cerchiamo di andare ad analizzare il circuito durante questa fase. Per la legge delle maglie di Kirchhoff, la somma delle differenze di potenziale ai capi del resistore e del condensatore deve essere uguale alla forza elettromotrice fornita dal generatore di tensione. Ricordandoci ora che la legge di Ohm ci dice che la differenza di potenziale ai capi del resistore è uguale a R per I, dove I è la corrente che circola nel circuito e che per definizione è data dalla derivata della carica rispetto al tempo, e ricordando inoltre che per la definizione di capacità la differenza di potenziale ai capi del condensatore è dato dalla carica fratto la capacità, abbiamo che la legge di Kirchhoff si può riscrivere come R derivata della carica rispetto al tempo più la carica fratto la capacità uguale a E, cioè alla forza elettromotrice fornita. Questa equazione differenziale descrive quindi la carica sulle piastre del condensatore al tempo T. Osservando inoltre che al tempo zero possiamo assumere che la carica sia nulla, otteniamo questo problema di Cauchy, con il dato iniziale Q0 uguale a 0. Cerchiamo quindi di andare a risolvere questa equazione differenziale, utilizzando il metodo di separazione delle variabili. Per comodità utilizzeremo questa notazione Q' per indicare la derivata della funzione Q rispetto alla variabile T. Isoliamo algebricamente RQ', che è uguale a E meno carica fratto capacità, e quindi andando a dividere tutto per E, ritroviamo che Q', la derivata della carica, è uguale a E per C meno la carica fratto RC. Ricordandoci che stiamo studiando la fase di carica del condensatore, siamo sicuri che E per C meno Q debba essere maggiore di zero, in particolare diverso da zero, e quindi possiamo andare a dividere per questa grandezza ottenendo che Q' fratto EC meno Q è uguale a 1 fratto RC. Cambiamo di segno a questa equazione e andiamo a osservare che la derivata del logaritmo in base naturale di EC meno Q deve essere meno Q' fratto EC meno Q. Osserviamo quindi che abbiamo svolto la derivata del logaritmo e moltiplicato per questo meno Q' per la regola di derivazione di funzioni composte. Osserviamo ancora che la derivata di meno 1 fratto RC per T più una qualsiasi costante K' è uguale a meno 1 fratto RC. Quindi, tornando all'equazione che stavamo studiando, possiamo affermare che debba valere che il logaritmo di EC meno Q sia uguale a meno 1 fratto RC per T più una qualsiasi costante reale K. Cerchiamo ora di trovare la soluzione Q dell'equazione differenziale che stiamo studiando. E quindi andiamo a invertire questo logaritmo ottenendo che EC meno Q è uguale all'esponenziale di meno 1 fratto RC per T più la costante K. E quindi, andando a rigirare algebricamente questa equazione, otteniamo che la funzione Q di T è uguale a E per C meno E alla meno 1 fratto RC per T più la costante reale K. Ma andiamo ad analizzare questa soluzione dell'equazione differenziale. E ricordandoci che per le proprietà della funzione esponenziale vale che E alla A più B è uguale a E alla A per E alla B, abbiamo che la carica deve essere uguale a E per C meno E alla meno 1 su RC per T per E alla K. Indichiamo questo E alla K con il simbolo K grande e quindi ritroviamo questa scrittura per la soluzione Q di T, cioè EC meno K E alla meno 1 fratto RC per T. Ricordandoci che il dato iniziale che abbiamo assunto è che Q di 0 sia uguale a 0, otteniamo che Q di 0 è uguale a E per C meno K E alla 0 e tutto questo deve essere uguale a 0. E alla 0 fa 1 e quindi otteniamo che K è uguale a E per C. Sostituiamo questo valore nella scrittura della soluzione, ottenendo quindi E per C meno E per C per la funzione E alla meno 1 fratto RC per T. Raccogliendo la costante E per C, otteniamo che Q di T è uguale a E per C tutto moltiplicato per 1 meno la funzione esponenziale E alla meno 1 fratto RC per T. Questa è la soluzione del problema di Cauchy che stiamo studiando e che quindi ci va a descrivere la carica sulle armature del condensatore. In particolare, la corrente che va a circolare nel circuito descritto è esattamente la derivata di questa funzione Q di T. E quindi otteniamo meno E per C per l'esponenziale E alla meno 1 fratto RC per T, tutto moltiplicato per meno 1 fratto RC, cioè vedete il coefficiente di questo esponente. Abbiamo svolto questa derivata sempre ricordando la regola di derivazione delle funzioni composte. A questo punto semplifichiamo la C e semplifichiamo anche questo segno negativo, ottenendo che la funzione corrente deve essere I di T uguale a E fratto R per la funzione esponenziale E alla meno 1 fratto RC per T. Vediamo ora di andare ad analizzare i grafici delle funzioni carica e corrente che abbiamo appena ritrovato. La funzione Q di T deve avere questo grafico esponenziale e osserviamo in particolare che il suo limite per T che tende a più infinito deve essere uguale a E per C. Infatti questo esponenziale quando T tende a più infinito tende a 0. Osserviamo quindi che Y uguale a E per C è un asintoto verticale per la funzione Q. In maniera analoga anche la corrente ha un grafico tipo funzione esponenziale, come vediamo rappresentato. Osserviamo in particolare che il valore della corrente al tempo 0 è E fratto R e quindi la funzione parte da questo punto ed è poi decrescente verso un asintoto orizzontale che è Y uguale a 0. Infatti il limite per T che tende a più infinito della funzione corrente I di T è uguale a 0. Osserviamo in particolare che la corrente nel tempo decresce decresce a 0 perché la carica sulle piastre si avvicina sempre più al suo valore di regime E per C. La velocità con cui la carica si avvicina a questo valore di regime dipende dal tempo caratteristico che è definito come tau uguale RC. Si osserva che trascorsi 5 tau la carica ha raggiunto circa il 99% del valore E per C e quindi si può considerare carico il condensatore. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire l'analisi del circuito RC nella fase di carica delle piastre del condensatore. Continuate a seguire i video di questo canale e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. A presto!